Buongiorno a tutti e ben trovati con un nuovo appuntamento della rassegna stampa di Radio Piave. Martina Reoloni in studio, oggi è lunedì 19 agosto, quindi buon inizio settimana a tutti i nostri ascoltatori. Cominciamo a sfogliare i quotidiani locali partendo dal Corriere delle Alpi. Titolo di apertura per il tema Sanità, l'altolà dei medici al piano Zaia, lettera dei sette presidenti provinciali dell'ordine specializzando i mandati allo sbaraglio, il sindacato delibera che svilisce la professione. L'assunzione di 500 laureati in medicina annunciata dalla regione per andare a rinforzare gli organici in ospedale, vista la carenza di camici bianchi, non convince i presidenti dei sette ordini professionali provinciali del Veneto che ieri hanno diffuso una lettera inviata a presidente Zaia in cui chiedono un incontro. Lamentano di non essere stati coinvolti e parlano di mano d'opera mandata allo sbaraglio a basso costo, posizione condivisa anche dal sindacato dei medici di famiglia. Questa notizia fa riferimento all'annuncio fatto nei giorni scorsi dal presidente della regione Veneto Zaia, ora andremo a leggere anche l'approfondimento. Foto di copertina del Corriere delle Alpi per il turismo caffone che conquista fra virgolette la grotta azzurra di Mel, il turismo caffone conquista anche la grotta azzurra di Mel, nonostante la tabellonistica spieghi chiaramente le regole per i visitatori, sono tanti turisti che fanno il bagno vietato nello specchio d'acqua lasciando i rifiuti un po' ovunque parcheggiando le auto in aree proibite. L'assessore Deola annuncia battaglia, pronte sanzioni più pesanti e controlli allo studio l'ipotesi di istituire un biglietto d'accesso all'area e un infopoint. L'articolo è di Dante da Mina, andremo a leggerlo poi. Sempre dalla prima del Corriere delle Alpi i rimborsi di Vaia a Belluno in arrivo 222 mila euro per privati e aziende. Il risarcimento di parte dei danni causati da Vaia ai privati e alle attività economiche arriverà a breve anche nel capoluogo. Nei giorni scorsi il quadro riepilogativo con la rendicontazione di tutte le domande di risarcimento è stata approvata dal comune di Belluno che provvederà all'erogazione dei fondi, non appena questi saranno accreditati nelle casse di Palazzo Rosso. E ancora in coda sull'Alemagna i sindaci di Pieve e Valle, paesi soffocati dal traffico. Altra giornata da bollino rosso sull'Alemagna, si riferisce a quella di ieri, domenica 18 agosto. Val Cansoi, idea per il 2020, spiaggia, sdraio e ombrelloni lungo il caorame. Proposta degli amici della Val Cansoi per l'estate del 2020. Andremo poi a leggere di cosa si tratta. È stato un record di presenze per il giro del lago di Santa Croce, in 5.000 alla manifestazione, record di iscrizioni e oltre 35.000 euro in beneficenza. Come si sa, le quote di partecipazione andranno in beneficenza nelle casse di Via di Natale e associazione Cucchini. Andiamo subito a pagina 9 per leggere la notizia relativa alla sanità con cui abbiamo aperto questa rassegna stampa. Le 500 assunzioni di Zaia, i medici frenano, i presidenti degli ordini e le associazioni sindacali di categoria vogliono un incontro per definire i criteri della formazione. Il piano straordinario di Zaia per assumere 500 medici con contratto di lavoro autonomo ed evitare la paralisi negli ospedali ha convinto il ministro Giulia Grillo, ma non le associazioni sindacali di categoria, pronte a scatenare una guerra legale per bloccare la delibera del 14 agosto scorso. E poco importa che la Giunta Veneta abbia aperto una strada che forse sarà seguita da tutte le altre regioni, in primis dalle province autonome di Trento e Bozzano, perché il giudizio non cambia. Si tratta di un provvedimento che manda lo sbaraglio e la manodopera professionale a basso costo. E quindi va fermato. Cosa dice la delibera della Giunta Zaia? Che i medici neolaureati non ancora specializzati possono essere assunti ed entrare in servizio subito. 320 andranno nei reparti di pronto soccorso del Veneto, 180 nelle medicine e geriatrie. Costo dell'operazione 25 milioni di euro. La legge nazionale non lo consente, ma la Cassazione ha aperto la porta, tanto che la delibera è stata benedetta sia dal ministro Grillo che dal sottosegretario Luca Coletto, convinti di aver trovato la strada giusta per fronteggiare un'emergenza che sconta una carenza di 7 mila medici in Italia. Subito l'opinione dei presidenti degli ordini dei medici delle diverse province del Veneto, Umberto Rossa, che è il presidente dell'ordine di Belluno. Ha firmato una lettera insieme ai colleghi Francesco Noce di Rovigo, Luigino Guarini di Treviso, Paolo Simeoni di Padova, Giovanni Leoni di Venezia, Carlo Ruggio di Verona e Michele Valente di Vicenza. La domanda che si pongono è, possono bastare 92 ore di formazione e 500 giovani freschi di laurea? Secondo i presidenti degli ordini pare proprio di no. Dopo aver criticato provvedimento si chiede a Zai e all'assessore Lanzarin un incontro in tempi rapidi per definire il percorso formativo con cui garantire l'assistenza qualificata ai nostri malati. La delibera è stata preparata e promulgata senza contattare l'Università di Padova e di Verona, qui spetta il compito di provvedere alla specializzazione dei medici neolaureati e che eventuali master e corsi post specialità da parte della regione debbono essere preparati in accordo con le strutture universitarie e gli ordini professionali. La protesta è stata avviata appunto nei reparti secondo i medici di famiglia si tratta di uno svilimento della professione pericoloso ritorno al passato. A protestare sono anche le associazioni sindacali appunto dei medici di base. Ci spostiamo in provincia o meglio ci concentriamo sulla notizia che riguarda in modo specifico la provincia di Belluno, siamo a pagina 10 del Corriere delle Alpi, ancora viabilità, turisti in coda lungo l'Alemagne, i nostri paesi soffocati dal traffico, anche i sindaci di Pieve, Valle sollecitano i lavori di Anas, tanti disagi ma anche pericoli per chi vive lungo la 51. L'articolo affirma di Paola Dalanese. Altra giornata da Bollino Rosso, ieri sulle strade della provincia di Belluno, rallentamenti e code chilometriche non sono mancate soprattutto alla sera in direzione sud. L'incrocio di Tai, ospitale e l'imbuto di Fortogna i punti più critici. In questo periodo ci sono code sia in salita che in discesa, commenta il primo cittadino di Pieve di Cadore, Giuseppe Casagrande. Il tappo in discesa si crea dopo Valle di Cadore a causa del semaforo e poi all'incrocio di Tai, mentre in saliti i problemi si evidenzano in uscita dalla galleria di Caralte, tanto che molto spesso il traffico si paralizza e i problemi, oltre ai turisti, colpiscono anche i residenti. Dopo i colleghi Ghedina e De Bon, anche Casagrande e Pungola Anas. È in ritardo su tutto per quanto riguarda le opere dei mondiali 2021, ma anche per l'intervento su due smottamenti che restringono altrettante strade. Il primo interessa una strada secondaria che conduce alla diga di Sottocastello, l'altro insiste lungo una strada primaria che collega Pieve a Calalzo. I lavori di ripristino del versante sono stati assegnati ad Anas, che doveva iniziare prima dell'estate, ma ancora non si vede nulla. In vista dei mondiali di sci del 2021, a Pieve è prevista la realizzazione di una variante in galleria che dal bar bianco in località Mayas sbucherebbe all'altezza della strada che porta a Tai. Ad essere perplessa, ad esprimere preoccupazione anche il sindaco di Valle di Cadore, Marianna Offer. Siamo tutti in attesa del parere del Ministero su queste varianti. Speriamo di poter vedere realizzati questi lavori, almeno per le Olimpiadi. Anche qui, in queste giornate, è impossibile muoversi. Ieri, se un residente di Valle avesse voluto andare a bere un caffè nel centro del paese, avrebbe dovuto prendere la bici o andare a piedi per fare prima. Per questo è fondamentale che i lavori partano al più presto, ma il problema vero è quello di aver sottoposto a valutazione di impatto ambientale, una variante come quella del mio comune, completamente in galleria. Andiamo nel capoluogo e cambiamo argomento. I danni dell'alluvione di Vaia, 222 mila euro per privati e imprese. Massaro, rimborsi in arrivo a Belluno, pronta la rendicontazione, prossimi gli interventi a Palazzo Rosso nel parcheggio delle ex Concerie a Borgo Piave, l'articolo a firma di Rene Aliprandi. Il risarcimento di parte dei danni causati da Vaia e privati e l'attività economica arriverà a breve anche nel capoluogo. Nei giorni scorsi il quadro riepilogativo, con la rendicontazione di tutte le domande di risarcimento, è stata approvata dal comune di Belluno che provvederà all'erogazione dei fondi non appena questi saranno accreditati nelle casse di Palazzo Rosso. Nel complesso si tratta di 222 mila 330 euro, dei quali 114 mila andranno ai privati e i 108 mila 284 alle imprese danneggiate. I contributi in molti casi coprono solo in parte le perdite subite perché il Dipartimento di Protezione Civile ha stabilito che le prime misure economiche di immediato sostegno alle famiglie che hanno subito danni all'attivazione sono attivabili fino a un limite massimo di 5 mila euro. Per l'immediata ripresa delle attività economiche produttive invece il contributo arriva a un massimo di 20 mila euro. C'è poi l'intervista al sindaco che sottolinea alcuni degli interventi che verranno avviati, non dimenticando di sottolineare però anche qualche problema. Si tratta di somme stanziate dallo Stato che le versa la Regione, che le gira al Comune, che le eroga a private aziende, spiega Massaro. È una cifra importante ma sappiamo che alcuni cittadini si sono trovati in difficoltà nella compilazione delle domande e anche se il Comune si è attivato per aiutare i privati non escludo che qualcuno non sia riuscito a presentare la richiesta. Un problema che esiste anche a livello pubblico visto che tutti i lavori fatti dal Comune in economia, cioè ricorrendo personale e risorse interne, non verranno rimborsati. Poi tra i lavori pubblici in programma breve c'è la sistemazione del parcheggio di Borgo Piave dove l'esondazione del fiume ha danneggiato non solo l'asfalto ma anche alterato l'andamento del terreno. Poche novità invece per l'Ambioi. Il Comune, in attesa della chiusura del cantiere del genio civile, ha provveduto alla pulizia dell'area e ha un progetto di ripristino del parco fluviale che tiene conto della diversa fragilità della zona. Andiamo a un argomento che riguarda la politica. Festa dell'unità in Nevegal, Orlando e le elezioni populisti in difficoltà. Il vicepresidente del PD incerto sulla possibile alleanza con i 5 Stelle. Non dovranno esserci ministri già visti in passato. L'articolo è di Francesco dal MAS. Andrea Orlando è stato ospite della festa dell'unità che si tiene a Pus in Nevegal. Si è chiusa con il botto la festa dell'unità di Pus. I militanti del PD e della sinistra hanno ascoltato in un silenzio quasi religioso il vice segretario nazionale Andrea Orlando, il quale ha dichiarato che da un eventuale governo PD e Movimento 5 Stelle dovrebbero essere esclusi come ministri i protagonisti dei governi Conte, Gentiloni e Renzi. Compreso me stesso ha precisato. L'applauso è stato immediato. Domenica scorsa Maria Elena Boschi era salita sul Nevegal per rilanciare le aperture di Renzi verso i grillini. Ieri Orlando ha gettato una secchiata d'acqua sul fuoco ammettendo che non tutti d'accordo, non tutti magari saranno d'accordo. Neppure il mio amico Roger De Menek, molti in platea, hanno capito che il vice di Zingaretti preferirebbe andare subito alle elezioni. Anche perché non è detto che le perderemmo. i populisti infatti sono in difficoltà un po' dappertutto. I prossimi giorni saranno decisivi per capire cosa accadrà con questa crisi di governo e speriamo di avere presto delle novità e che si esca da questa situazione di stallo. Continuando a sfogliare il corriere delle Alpi di oggi, andiamo a Levego. Tre asini sbranati nel cuore della notte all'azienda Al Bacchero. Tre asini assaliti nella zona di Levego e precisamente nell'azienda agricola Al Bacchero di Teclas Cartone che si trova a Levego in via Meassa. Attorno alle 2 della notte tra sabato e domenica sono stati presi di mira, presumibilmente da lupi, tre asini che trascorrevano la notte nell'enorme prato recintato con due fili di corrente. Le abbiamo sentiti ragliare nel cuore della notte ma non abbiamo pensato subito a una situazione di pericolo, spiegano i proprietari. Alle 5 del mattino quando siamo usciti all'aperto ci siamo accorti di quanto è accaduto. Abbiamo trovato la carcassa di un asino, un secondo è stato abbattuto dal veterinario per le gravi ferite riportate nell'assalto mentre un terzo era sparito nel nulla. Pagina 15 del Corriere in montagna. Tre escursionisti in pericolo recuperati nel cuore della notte. I volontari del soccorso alpino hanno lavorato a Cortina nella valle del Miss per riportare a casa una coppia di francesi rimasti incrodati e una ragazza. C'è tra l'altro un articolo appena sotto nel taglio medio di pagina che fa un bilancio della raffica degli interventi tra suo e me soccorso alpino portati avanti in queste settimane. Raffica di interventi non in questa settimana scusate ma nella giornata di ieri domenica 18 agosto. Ieri mattina alle 10 il gestore del rifugio Giussani componente del soccorso alpino di Cortina ha raggiunto un escursionista infortunatasi al ginocchio lungo il sentiero non distante dalla struttura. Alle 14.40 la centrale del 118 ha allertato i volontari del soccorso alpino dell'Alpago per due escursionisti affaticati dalla lunga camminata a 500 metri circa da Casera a Palantina. Una squadra è andata incontro alle escursionisti che dopo un po' si sono ripresi e rimessi in marcia. Altro intervento poco dopo le 15 in direzione della ferrata del Cor Rosà per una ragazza colta da crisi di panico poco sopra l'attacco. Alle 16 è scattato l'allarme per il soccorso alpino di San Vito inviato al rifugio Venezia a voto di Cadore dove un escursionista forse disidratata si era sentita poco bene. Nel pomeriggio è stata soccorsa un escursionista di 76 anni che si era sentito male mentre scendeva dal rifugio Col de Varda. Su richiesta poi del 118 di Bolzano l'elicottero del suo Emcadorino è intervenuto all'altezza di Cella del Lago. Badia dietro a Lagazzuoi per un sessantenne di Bressanone è caduto a terra. Ecco la notizia con cui abbiamo aperto la rassegna stampa di oggi. Borgo Valbelluna e i caffoni conquistano la grotta azzurra. Bagni vietati, rifiuti lasciati ovunque, parcheggio selvaggio, Deola, maggiori controlli. Pensiamo al biglietto di ingresso. L'articolo affirma di Dante Damin. Il turismo cafone conquista anche la grotta azzurra di Mel. La tabellonistica presente alla grotta azzurra con le varie simbologie relative all'ordinanza in vigore spiega chiaramente che in quel tratto di torrente non si può fare il bagno ma in molti fingono di non vedere. Le parole dell'assessore comunale all'ambiente Simone Deola non lasciano spazio a dubbi. Nella grotta azzurra è vietato fare il bagno per i danni che questa attività potrebbe apportare al delicato ecosistema. In questi giorni il luogo è letteralmente preso d'assalto dai turisti, belunesi e nonne, che incuranti dei divieti presenti utilizzano lo specchio d'acqua per fare un bagno. Abbandonano rifiuti qua e là in maniera incontrollata. Tra le possibili soluzioni, oltre al rafforzamento dell'ordinanza, non è esclusa l'entrata a numero chiuso per turisti e non residenti. Per il sito naturalistico prosegue Deola, vige un'ordinanza che tra le altre cose vieta la bannazione insieme ad alcune prescrizioni per l'accesso in sicurezza, quali l'utilizzo di calzature adeguate, il cane al guinzaglio, il divieto di entrare con passeggini, bambini accompagnati. Regole che vanno rispettate e che sono dettate da due motivazioni, sicurezza e salvaguardia naturalistica. Ma quali sono le progettualità future legate allo sviluppo dell'area? Senza dubbio la tutela della diversità biologica e naturalistica del sito alla pari di quella geologica, spiega Deola. Gli stessi concetti valgono anche per i brand dell'arte. La valorizzazione passerà anche attraverso alcune azioni. Vista la scarsa attenzione dei turisti nei confronti dell'ambiente, aggiunge Deola, stiamo valutando la possibilità di regolamentare l'accesso alla Grotta Azzurra mediante un ingresso controllato con biglietto che miri all'ottemperanza delle regole. Allo stesso tempo verrà aperto un punto informativo. E si parla anche di rilancio della Val Canzò, in questo caso siamo nel Feltrino, comune di Cesio Maggiore. È la proposta degli amici in vista dell'estate del 2020, sdraio e ombrelloni per attirare più visitatori. L'articolo è di Laura Milano. Qualche sdraio, un po' di ombrelloni e chissà anche un piccolo chiosco ci possono stare sulla superficie emersa come una battigia sassosa quando Vaia ha devastato l'argine del torrente Caorame. Fronte ossera e si sono ripristinate le scogliere con un intervento perfetto a prova di esondazione. A suggerire il rilancio di questa zona adesso c'è anche una spiaggetta naturale e il gruppo spontaneo Amici della Val Canzòi non si tira indietro quanto a sistemazione di sentieri provvedendo anche alla tabellazione per orientare i visitatori. Giovanni Sacchette dice non servono grandi cose per assecondare le istanze di persone che cercano un luogo tranquillo e ancora incontaminato, così per Rossera, intesa come località e non solo posto di ristoro, vedremmo bene una base per lo sport naturalistico con il completamento della ferratina sulla parete già predisposta. Vorremmo incoraggiare il progetto suggerito da Roman, precedente gestore di Rossera, per realizzare il parco avventura per l'allenamento e divertimento dei più giovani e magari la creazione di una base logistica per le mountain bike. La priorità degli Amici della Val Canzòi resta quella dell'interramento delle linee elettriche per cui appunto continua la battaglia e l'impegno. Chiudiamo il Corriere delle Alpi e andiamo ad aprire il gazzettino andando direttamente alle pagine bellunesi, all'inserto bellunese che apre con una grande foto dedicata al giro del lago di Santa Croce. 35.000, gli euro raccolti andranno a beneficio delle associazioni Via di Natale e Cucchini. E poi ancora, è un'estate senza tregua per 500 soccorritori, anche ieri raffica di interventi per i volontari bellunesi del soccorso alpino, siamo riperibili 24 ore su 24. Andremo poi a leggere l'approfondimento. Comelico, dal Piave emerge il dopo, vai a detriti da togliere dopo l'alluvione dello scorso autunno, ora dal Piave in Comelico emergono detriti che necessitano interventi di sicurezza. Restando a Belluno, il Bembo può aprire tre spettacoli con la danza. Andiamo ora a leggere di cosa si tratta. C'è anche un articolo che fa il bilancio dell'attività del 2018 della biblioteca di Limana, 12.000 i libri prestati. Taglio basso della prima del gazzettino, il Cordevole diventa un bidet, fermate quei cafoni. Turismo caffone a Caprile, dopo i tuffi tra le calli veneziane o i fresco relax nelle fontane della capitale, ora è il turno del meno blasonato Cordevole, dove in Caperisti in questi giorni di agosto hanno pensato di improvvisare WC, docce e bidet. Ieri un passante ha fotografato una coppia che con non curanza stava provvedendo ai bisogni fisiologici mattutini con successiva igiene personale. Nudi sul greto del torrente suscitando lo sconcerto di turisti e residenti anche perché l'area in gestione in questione un semplice parcheggio è nel centro del paese a ridosso della caserma dei carabinieri. L'articolo è di Raffaella Gabrielli. Andiamo all'interno del giornale. Appunto il Bembo come dicevamo è pronto ad aprire e apre alla danza tra gli spettacoli già fissati. L'articolo è di Alessia Trentin. Palazzo Bembo apre le porte ma solo per ballare. Tra spettacoli di danza programmati a settembre dalla Fondazione Teatri delle Dolomidi schiuderanno in anteprima la città, i saloni appena restaurati del grande edificio di Via Loreto. Tra stucchi e freschi, pavimenti in legno candido e segni del passato, quando le stanze ospitavano l'ospedale del capoluogo, si muoveranno etere danzatrici mentre i bellunesi potranno godere allo stesso tempo di spettacolo e location. Le date da segnare in agenda sono quelle del 7, 14 e 21 settembre. sempre nel capoluogo c'è una notizia che riguarda la chiesetta di Mussoi che festeggia il restauro della pala d'altare. Appuntamento a fine mese, frate Sandro pensa al recupero completo dell'ex cappella per farne meta turistica. Intanto ad avere nuova vita sarà la pala d'altare che rappresenta la Vergine e il bimbo in trono, una tela adattabile tra 1590 e 1597 a firma del pittore veneto Antonio Cicogna. Per il restauro teso da anni si farà festa, anzi una festa dentro la festa, visto che l'inaugurazione è fissata per le 17 di sabato 31 agosto all'interno della tradizionale manifestazione che la parrocchia organizza a fine agosto. La chiesetta potrebbe rientrare effettivamente in itinerari di turismo religioso e il parire di Don Giacomo Mazzorana che è pure presidente del comitato scientifico del museo diocesano di Feltre. Una chiesetta che ha potenzialità sia in relazione ai manufatti artistici sia per la storia bellunese e veneta che racconta. C'è poi una pagina completamente dedicata alle emergenze in vetta, l'estate sulle Dolomiti, raffica di interventi nel fine settimana. Un esercito di 500 volontari garantiamo copertura 24 ore su 24, scrive Andrea Zambenedetti. Sono 500 i volontari del soccorso alpino attivi in provincia di Belluno, un vero e proprio esercito, quello bellunese, che si calcola che in tutto il Veneto sono 700 i componenti del soccorso alpino. Nelle 19 stazioni di competenza della seconda delegazione, due sono in territorio trevigiano, tutte le altre sono in provincia di Belluno e garantiscono copertura 24 ore su 24. L'articolo procede poi con un'intervista ad Alex Barattina, la guida della delegazione bellunese del soccorso alpino. Se qualcuno immagina che in estate a causa delle ferie sia più difficile trovare qualche volontario disposto a mettersi a disposizione della comunità può solo ricredersi. Chiaramente trattandosi di volontari non obblighiamo nessuno, spiegano dal soccorso alpino, ma c'è una sensibilità tale che non vi è difficoltà a coprire i turni. Ecco la notizia relativa purtroppo alla cafonaggine dei turisti sul Cordevole, siamo in questo caso tra Caprile e Dalleghe, dopo i tuffi tra le calli veneziane o il fresco relax nelle fontane della capitale, ora è il turno del meno blasonato Cordevole. Se più di una persona in passeggiata si è rimbattuta negli scorsi giorni in questi bagni fai da te, ieri Giuseppe Rudati, si custode della spiaggetta di Alleghe, ha ricevuto una foto che immortalava una coppia che con grande non curanza stava provvedendo ai bisogni fisiologici matuttini nonché alla successiva igiene personale. Per chi ci segue in video si vede anche la fotografia, suscitando inevitabilmente lo sconcerto di turisti e residenti, anche perché l'aria in questione un semplice parcheggio a caserma dei carabinieri. Postata su Facebook la foto ha animato ben presto svariate decine di commenti dai semplici incivili o senza rispetto a chi ha manifestato vero e proprio scandalo. Il sindaco Danilo Dettoni dice che sicuramente si tratta di un comportamento di cattivo gusto e di poca civiltà, ma come farvi fronte? Non possiamo certo rivendicare la presenza delle forze dell'ordine che già fanno tutto quello che possono per assicurare la sicurezza e la tranquillità della comunità. Del resto questa è pura maleducazione. Episodi simili sono successi di recente a Cortini, a Selva di Cadore ed altri ne accadranno. È nelle intenzioni delle amministrazioni realizzare un'area attrezzata dedicata a questi mezzi, ai camper, dotata di vasche per i liquami e degli impianti di rifornimento di acqua e di energia elettrica. Certo ci vorrà tempo, dice il sindaco di Alleghe, nel frattempo auspichiamo più educazione. L'appuntamento con la rassegna stampa di oggi finisce qui, vi ispettiamo domani puntuali alle 8.30 sulle frequenze di Radio Piave e sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Grazie a tutti per l'ascolto, buona giornata, a presto.